La giustizia con l'acqua alla gola, magistrati costretti agli straordinari per assicurare l'ordinario, le gravi carenze d'organico degli uffici giudiziari di Cadanzaro denunciate dal procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri nell'intervista esclusiva per la trasmissione 30 minuti. Aula agli immigrati, rivolta dei genitori. Il conflitto tra politiche per l'integrazione e sacche di intolleranza. Il caso di Briatico dove un'aula viene destinata all'alfabetizzazione degli immigrati, ma i genitori degli alunni protestano. I nostri figli non possono condividere i bagni con loro. Why not? Un caso infinito. A distanza di anni ancora strascichi giudiziari legati al caso Why not? Il GIP di Salerno archivia un altro dei procedimenti avviati contro l'ex PM Luigi De Magistris, che in questo caso viene scagionato dall'accusa di aver diffamato il giudice Abigail Mellace. Usure e distorsioni dalla parte delle vittime. A Cadanzaro la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra prefettura e procura. Il giro di vite inizia dall'incentivazione delle denunce. La sinergia si riverbererà anche grazie agli uffici territoriali del governo di Cosenza, Crotone e Vibo Valencia. Ricerca torna il gran galà. Per il terzo anno all'Università Magna Grecia, la manifestazione che mette in competizione i progetti dei ricercatori, vince un lavoro sugli effetti che i macronutrienti hanno sui soggetti affetti da obesità. Buon giovedì puntuali anche oggi. Entriamo dentro le vostre case per raccontarvi i fatti più importanti della giornata. In apertura del nostro telegiornale c'è la giustizia con la grave situazione che si registra negli uffici giudiziari di Cadanzaro a lanciare l'allarme sulla carenza d'organico e direttamente il procuratore aggiunto di Cadanzaro, Giovanni Bombardieri, in esclusiva alla nostra emittente. Un ufficio giudiziario al collasso. Troppo pochi magistrati costretti agli straordinari per assicurare l'ordinario, con inevitabili ripercussioni sull'efficacia della risposta alla domanda di giustizia. L'allarme è lanciato dal procuratore aggiunto di Cadanzaro, Giovanni Bombardieri, in un'intervista rilasciata alla nostra Gabriella Passariello per la trasmissione 30 minuti. Effettivamente è una situazione grave, è una situazione che nasce da un sottodimensionamento degli uffici giudiziari, non solamente della procura, ma di tutti gli uffici giudiziari di Cadanzaro, che riguardano appunto la procura, riguardano anche il tribunale, l'ufficio GIP del tribunale. E tempo addietro l'ex presidente dell'ufficio GIP, la dottoressa Rillo, aveva segnalato insieme a me, agli organi di stampa, alle istituzioni preposte, una situazione veramente difficile per quanto riguarda il lavoro della DDA. Un deficit d'organico a cui non è stato posto rimedio malgrado l'aumento esponenziale del carico di lavoro. Gli impegni dibattimentali nella stessa giornata potrebbero arrivare persino a 10, perché oltre ai 7 tribunali circondariali, che potrebbero svolgere tutto lo stesso giorno un'udienza dibattimentale di DDA, ci sono le corte d'assisi di Cosenza e di Cadanzaro e ci sono i gruppi distrettuali che potrebbero fare l'udienza lo stesso giorno. Quindi noi a fronte di 10 impegni dibattimentali nella stessa giornata avremmo comunque 6 o nel caso di un organico completo 7 magistrati da destinare a 10 impegni dibattimentali. Quindi è evidente che non ci sarebbe una copertura completa neanche delle udienze da svolgere. E tra le situazioni più gravi da gestire è quella che riguarda i procedimenti antimafia su Vibo Valencia. Ultimamente la situazione maggiormente critica si sta rivelando quella del circondario di Vibo Valencia. Vibo Valencia abbiamo un impegno dibattimentale che si articola su tre giorni alla settimana, cioè un magistrato della DDA impegnato per tre giorni alla settimana davanti al tribunale di Vibo Valencia. Negli altri due giorni lo stesso magistrato è impegnato però in altre vicende processuali e impegnato in corte d'assise, per cui abbiamo un magistrato che è destinato al circondario di Vibo Valencia e che è impegnato 5 giorni su 7, quindi tutti i giorni di udienza disponibili. E adesso un altro caso destinato a far discutere parecchio. Siamo a Briatico, quindi nel Vibonese, dove un'aula dell'Istituto Comprensivo è stata destinata ad un progetto di alfapedizzazione per 30 immigrati, ma, ed è questa la notizia, i genitori degli alunni della stessa scuola protestano. per gli immigrati sì. Questa è la motivazione ufficiale, anche se l'idea di includere ragazzi di diverse età nello stesso istituto, che quindi condividono gli stessi bagni, è inaccettabile per molti di loro, come rivela ai nostri microfoni una mamma. Perché avete protestato? Perché nelle ore che ci sono i ragazzi fare scuola, mentre ci sono i ragazzi nelle ore di mattina, di pomeriggio deve essere fatto, no di mattina. Sembra una forma di razzismo. Non è razzismo, guardi, perché non è questione di... non sappiamo se i controlli sono stati fatti queste persone. Usano lo stesso bagno. Una protesta condivisibile, così uno degli abitanti di Briatico. Non è giusto che gli uomini grandi vadano negli stessi bagni dei piccoli. Li possono inquinare, possono portare malattie, possono portare cose. Si fintano un locale fuori, dall'edificio scolastico, che ce ne sono tanti, con un bagnetto e fanno scuola. Qual è il problema? Non le sembra una forma di razzismo questa? Non è una forma di razzismo, è una forma per salvaguardare i ragazzi. Non possono andare i grandi, capito? Nei bagni dei piccoli. Posso chiederle in tutta sincerità che cosa ne pensa della presenza dei migranti qui a Briatico? Cosa ne penso? Penso che fino ad adesso si stanno comportando bene. Fino a quando non si sa. Mi auguro che gli diano la libertà di andare in paesi dove possono trovare più libertà e lavoro. Qui lavoro non c'è nemmeno per la gente del posto. L'ex PM di Catanzaro Luigi De Magistris non avrebbe diffamato l'ex collega Mellace. L'ultimo capitolo è legato al processo Why Not? Luigi De Magistris, ex PM della procura di Catanzaro, non diffamò il GUP Abigail Mellace. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Salerno Sergio De Luca che ha archiviato la posizione dell'attuale sindaco di Napoli. Secondo le accuse, De Magistris avrebbe diffamato la collega in servizio al Tribunale di Catanzaro e il marito Maurizio Mottola D'Amato in tre articoli pubblicati sul suo blog dai titoli ritenuti offensivi. Il giudice di Why Not, non di Berlino e le mistificazioni del regime in vendo contro la collega che aveva chiuso l'inchiesta Why Not condotta all'epoca dei fatti proprio da De Magistris con una serie di assoluzioni importanti inclusa quella del marito della Mellace di professione imprenditore e che erano stati oggetto di una trasmissione televisiva Exit che andò in onda sulla 7. La questione poi finì nelle mani della Procura di Salerno competente a decidere dei presunti reati commessi dai magistrati di Catanzaro che ha chiesto l'archiviazione per l'ex PM accolta poi dal giudice delle indagini preliminari. L'inchiesta Why Not è costata all'ex magistrato la condanna insieme a Gioacchino Genchi ad un anno e tre mesi di reclusione per abuso di ufficio sentenziata dal Tribunale di Roma nel settembre dello scorso anno. L'accusa era quella di aver acquisito nel 2009 in modo illegittimo i tabulati telefonici di alcuni parlamentari. Siglato in prefettura a Catanzaro un importante protocollo per la tutela delle vittime dell'usura e del racket delle estorsioni. Ecco come le istituzioni intendono favorire la denuncia degli imprenditori il protocollo che coinvolge anche le prefetture di Cosenza, Crotone e Vibo Valencia. Usura e distorsioni, il giro di vite inizia dal sostegno alle vittime. Questo è il senso del protocollo d'intesa sottoscritto nella sede dell'ufficio territoriale del governo di Catanzaro su proposta del prefetto Luisa Latella con la procura di Catanzaro nella persona del procuratore capo Vincenzo Antonio Lombardo. L'intesa mira ad aiutare le vittime di usura e distorsione che hanno avuto il coraggio di denunciare. L'iniziativa è stata voluta dalla prefettura di Catanzaro ma coinvolge anche le altre prefetture del distretto giudiziario quindi quelle di Cosenza, Crotone e Vibo Valencia. Interessate all'attuazione di questo protocollo anche l'Inps, l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia. Il prefetto Latella, a margine della sottoscrizione, ha spiegato il significato del progetto rimarcando che il problema della Calabria è la sommersione del fenomeno dal momento che sappiamo bene esiste ma le vittime non denunciano. Il prefetto ha poi spiegato che con una compiuta applicazione delle leggi in materia sarà possibile ottenere una dilazione dei pagamenti nei confronti degli enti interessati fino a 300 giorni per chi è vittima di fenomeni estorsivi. L'imprenditore, ha poi sottolineato il procuratore Lombardo, deve capire che l'usura in questa regione è legata all'andrangheta e se si accetta un prestito da certe persone non si uscirà più dal tunnel. E' merito, abbiamo sentito proprio il procuratore capo di Catanzaro Vincenzo Antonio Lombardo e il prefetto della città dei Tre Colli. Luisa Latella. Il protocollo d'intesa che stamattina abbiamo sottoscritto posto dal prefetto Latella è molto importante perché velocizza le procedure che le leggi sull'usura e sull'estorsione delineano in materia di provvedimenti a favore dell'imprenditore vittima di estorsione o di usura per i provvedimenti dei quali egli può beneficiare. provvedimenti che si concretano in un provvedimento, in un ordine del procuratore della Repubblica che sospende le procedure esecutive con iniziativa diretta ai giudici dell'esecuzione ma che sospende altresì una serie di altri obblighi a carico dell'imprenditore la cui attivazione però implica il concorso dell'Agenzia delle Entrate il concorso di Equitalia il concorso dell'Impis e anche il concorso delle banche il protocollo che abbiamo scritto oggi a che cosa serve? a far sì che la Procura sappia direttamente a chi può rivolgersi mentre fino a qui poteva farlo solo attraverso la Prefettura che faceva da intermediario con gli altri soggetti un modo per dare un'ulteriore spinta a una normativa che esiste da tempo esiste dalla fine degli anni 90 è che però ha avuto degli incrementi nel nostro territorio perché le denunce nel tempo sono aumentate ma non tali da sconfiggere il fenomeno perché il fenomeno può essere sconfitto solo con una reazione della società civile il presidente della regione Mario Oliverio con proprio decreto ha fissato il calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado per l'anno 2015-2016 le elezioni inizieranno il 14 settembre e si concluderanno l'8 giugno ma la novità sta nel fatto che il decreto prevede 208 giorni di scuola 8 in più di fatto rispetto ai 200 previsti ed ora la pagina della politica i giovani democratici calabresi annunciano una tre giorni di dibattito sui temi del lavoro a Cetraro i contenuti sono stati presentati in una conferenza stampa che si è tenuta alla mezza terma e c'eravamo anche noi saranno tre intense giornate di studio proposte e dibattito quelle previste nei giorni 27, 28 e 29 marzo a Cetraro e organizzate dai giovani del PD regionale della Calabria si parlerà di sviluppo, innovazione e ovviamente di lavoro all'iniziativa denominata un mare di idee per idee da amare sarà presente il presidente della giunta regionale Mario Oliverio la delegazione parlamentare del PD e i consiglieri regionali la nostra idea è quella di inserirci in una discussione che è già stata avviata dalla regione Calabria e parlo del tema del lavoro lo facciamo soprattutto da giovani che vivono in questa Calabria e che immaginano soprattutto politiche mirate ad una risoluzione dei problemi che viviamo attualmente saranno presenti i nostri deputati i nostri consiglieri regionali il presidente Oliverio l'assessore al lavoro della regione Calabria Carlo Guccione il nostro capogruppo del PD Sebi Romeo il segretario regionale Magorno e quindi come dire una chiamata del nostro partito delle nostre funzioni governative affinché si lanci veramente un tema forte delle proposte mirate soprattutto sul tema del lavoro Ed ora la pagina dedicata alle elezioni amministrative partendo da Lamezia Terme ve lo avevamo tra l'altro anticipato già ieri le primarie della centrosinistra saranno doppie i Democrat avranno le loro primarie domenica mentre gli altri esponenti del centrosinistra attenderanno il verdetto delle urne di sabato 4 aprile Non rinunciano a partecipare alle primarie i candidati del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative il PD ha deciso di correre da solo e di presentarsi alle urne domenica 29 marzo lasciando che sia l'elettorato a scegliere chi tra i cinque candidati attuali rappresenterà i Democrat nella corsa per la poltrona di sindaco una decisione estrema che si è tentato di evitare fino alla fine ma legata all'incapacità di riuscire ad individuare un unico candidato nelle maglie del confronto e delle logiche interne al partito stesso e allora ecco che gli altri esponenti del centrosinistra faranno le loro primarie la data è fissata per sabato 4 aprile vigilia di Pasqua ma la notizia è fresca anche per gli stessi candidati che in queste ore stanno concertando e decidendo è possibile che ci sia anche chi decida di tirarsi fuori dai giochi e di correre da solo o di rinunciare completamente non Rosario Piccioni che poco ore fa aveva chiesto di avviare le primarie tra i movimenti del centrosinistra invitando a riflettere su quello che stava accadendo nel partito democratico e probabilmente nemmeno Nicolino Pane di Grano che da tempo lancia attacchi contro il Dominus Pino Soriero commissario del PD che ha fino ad ora dettato l'agenda delle primarie A Vibo Valencia la decisione di Elio Costa di scaricare Forza Italia rischia di avere ripercussioni pesanti anche sulla formazione del cosiddetto terzo polo che ora appunto rischia di sfumare Giamborino infatti potrebbe rientrare nel centrosinistra ma lo schiavo sembra non gradire tanto l'idea Se Atene piange Sparta certo non sorride con il centrodestra nella bufera dopo che Elio Costa ha messo alla porta a tutti i partiti e soprattutto Forza Italia quella che si ostrava nell'ambito del PD e del centrosinistro e più in generale a Vibo Valencia è soltanto una quiete apparente lo scenario è infatti in progressiva evoluzione Antonio Lo Schiavo dopo aver vinto le primarie da settimane ormai lavora alla formazione delle liste almeno 5 forse 6 quelle a suo sostegno ma voci tutt'altro che di corridoio vorrebbero prossimo il ritorno nell'alveo del centrosinistra del principale sconfitto nella competizione tenutasi lo scorso 22 febbraio si tratta di quel Pietro Giamborino più volte indicato come leader di un terzo polo a quanto pare ormai sfumato Fratelli d'Italia e Forza Italia potrebbero d'altronde andare a creare il centrodestra nel quale per Giamborino non ci sarebbe assolutamente posto così nelle scorse ore il governatore Mario Oliverio e i suoi più stretti collaboratori si sarebbero rimessi al lavoro per rinsaldare i rapporti tra lo sconfitto delle primarie e il PDV Bonese impresa non difficilissima se di mezzo non ci fosse Antonio Lo Schiavo il notaio su cui i Democrat punteranno alle prossime amministrative a quanto pare non coinvolto nella trattativa esigerebbe infatti precise garanzie dal suo avversario prima di stringergli nuovamente la mano e al di là delle pressioni che elementi di spicco del PDV proverebbero ad esercitare in queste ore su di lui Lo Schiavo non sembrerebbe propenso a riaccettare Giamborino nei ranghi della coalizione come se niente fosse accaduto la ferita della fase immediatamente successive alle primarie quando il vincitore aveva tesso la mano ai propri rivali d'altronde è ancora aperta per ricomporla l'aspirante sindaco pretenderebbe da quel che trapela una presa di distanza ufficiale di Giamborino dai toni e dalle accuse di quei giorni e un suo nuovo passaggio nel partito prosegue invece in modo proficuo la collaborazione di Lo Schiavo con gli Oliveriani di Vincenzo Pasqua con questi ultimi la trattativa può ritenersi ormai ad uno stadio avanzato i comuni che escono da uno scioglimento per mafia sono come un malato in convalescenza ed hanno bisogno di sostegno perché ancora deboli sono parole del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà è intervenuto ieri a Roma in occasione di un importante incontro alla Camera sul contrasto alla criminalità Reggio sta lavorando strenuamente per ripulirsi dalla macchia del commissariamento e dalla malagestio della res pubblica del passato su questo tema si è incentrato il discorso del sindaco della città dello stretto Giuseppe Falcomatà è intervenuto alla Sise svoltasi alla Camera sullo contrasto alle mafie negli enti territoriali e nazionali nei primi mesi della nuova amministrazione che ha riportato la democrazia nella capoluogo di provincia le basi d'azione sono e saranno ha affermato il primo cittadino legalità e trasparenza un percorso che deve abbracciare tutti i settori Falcomatà davanti agli illustri presenti tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha spiegato che il comune di Reggio sta cambiando non solo al suo interno con la riorganizzazione degli uffici eliminando le masse che ostruivano il regolare flusso delle mansioni ma anche al di fuori delle mura di Palazzo San Giorgio oggi ha detto Falcomatà l'amministrazione ha un contatto continuo con le scuole del territorio sta recuperando la memoria dei luoghi e delle persone è tesa a contrastare tutte quelle situazioni o condotte sintomatiche di fenomeni corruttivi infine un affondo diretto all'azione poco incisiva a suo dire della terna commissariale che avrebbe e potuto fare di più e una proposta sui proventi delle confische è necessaria ha sottolineato Falcomatà una modifica normativa che preveda che una parte di questi proventi rimangano ai comuni e siano vincolati alla riqualificazione dei beni stessi è una questione fondamentale da risolvere per consentire ai comuni un concreto riutilizzo dei beni per fini sociali e per far trionfare davvero la legalità restiamo a Reggio Calabria dove è saltato l'ultimatum per la società di gestione dell'aeroporto Tito Minniti è bloccata anche la procedura di revoca della concessione l'Enac dona ancora ossigeno alla Sogas che adesso però è chiamata a chiarire definitivamente ogni aspetto che riguarda lo Scalo Reggino questioni ancora aperte futuro poco chiaro ma a disposizione un po' di tempo in più situazione Tito Minniti e società di gestione dell'aeroporto dello Stretto ieri Carlo Alberto Porcino presidente Sogas ha ricevuto una telefonata da parte dei vertici Enac per un ulteriore extra time per il momento quindi è saltato fortunatamente l'ultimatum del 27 marzo per la presentazione dei documenti necessari e soprattutto bloccata la procedura di revoca della concessione adesso la società di gestione dovrà inviare una minuziosa relazione all'ente nazionale di aviazione civile che solo dopo aver analizzato il materiale fisserà un nuovo termine l'obiettivo è ottenere la concessione ventennale per continuare a gestire lo scalo una buona notizia per arrivare a tale scopo arriva dal commissario speciale nominato dal tribunale di reggio che ha effettuato il prelievo forzato di 400.000 euro nelle casse della provincia regionale di Messina debitrice di Sogas per quanto riguarda gli altri soci la regione Calabria ha sbloccato la parte di debiti di sua competenza ma si attende ancora il mandato di pagamento nelle casse della società tutto tace invece dalle parti del comune reggino sulle cifre e sui numeri però Enac ha posto un veto inviolabile la costruzione della nuova areostazione su questo fronte è prevista a stretto giro una riunione della dipartimento dei lavori pubblici regionali per fornire all'ente nazionale di aviazione la certificazione che i lavori ripartiranno all'università magna grecia di catanzaro la manifestazione che mette in competizione i progetti dei ricercatori scopriamo chi ha vinto terzo gran galà della ricerca all'università magna grecia di catanzaro una festa importante che celebra una delle missioni principali dell'università la ricerca appunto la quale si affianca alla formazione e all'innovazione proprio quest'anno la tenoca tanzarese ha lanciato un'altra sfida strettamente correlata alla ricerca ovvero i master spin off iniziativa unica nel suo genere che consente di realizzare un ponte di collegamento tra l'università e il mondo dell'impresa il gran galà che si svolge in sinergia con Confindustria Catanzaro e la Camera di Commercio guidata da Paolo Abramo ha visto in gara 23 progetti vincitore della manifestazione Attilio Morrone con una ricerca sui macronutrienti e sui loro effetti metabolici specie sulle persone effette da obesità è una festa importante perché la ricerca è la missione principale dell'università l'altra è la formazione e l'assistenza sanitaria che è la terza missione dell'università però la ricerca è sicuramente la missione più importante perché è solo attraverso la nuova conoscenza che si ottiene un miglioramento della qualità della vita delle persone nella medicina un miglioramento delle informazioni lo sviluppo tecnologico il trasferimento tecnologico tutti conosciamo la Silicon Valley dove praticamente nascono le nuove aziende sono un derivato della ricerca scientifica solo la ricerca può assicurare ai giovani un futuro e cercare di cambiare la nostra regione ci fermiamo qualche istante ma torniamo tra pochissimo con lo sport vi aspetto visita il sito www.cnews24.it per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia per essere aggiornato che fa notizia in questo momento Grazie.